Non sono tanti i tennis club che possono vantarsi di essere centenari, tra questi spicca il tennis club di Padova, prezioso pezzo di storia della città del Santo. E il tennis club Padova ha ospitato uno dei gironi del Centenary Club, la manifestazione a cui possono aderire solo i club con radici profonde cent'anni. Il direttore Umberto Bressan. È un'organizzazione bellissima a cui noi abbiamo l'onore di essere stati ammessi e che ci permette ogni anno di essere internazionali, o in casa o all'estero. È una continuazione però invece della festa che abbiamo fatto nel 2012, invitando migliori campioni degli anni passati come Nastase e Panatta. Una festa bellissima che è stato un evento di una giornata, invece con la nostra partecipazione al campionato dei circoli centenari europeo, diamo una continuità a questo discorso. Oltre al tennis club Padova hanno partecipato l'appuntamento patavino, gli storici circoli dello Salk di Stoccolma, il Ceschi di Praga e il Wiener Park di Vienna. Le gare prevedevano sei singolari over 35, 45 e tre doppi, due misti e uno maschile per ogni incontro. Il vicepresidente Michele Scapolo. Significa tanto per noi perché questo club ha una storia molto importante e chi è venuto prima di noi ha fatto grandissime cose e quindi c'è anche una responsabilità di poter cercare, di dover cercare di continuare una tradizione importante. Il tennis club Padova era la sua terza partecipazione dopo la brillante vittoria di Gironi a Dublino nel 2012, la seconda posizione nella finalissima dello scorso anno al tennis club Parioli di Roma. Il titolo europeo è a cadenza biennale, il quadrangolare dà diritto alle Final Four del prossimo anno e il tennis club Padova ha vinto in finale con Praga 5 a 4 al terzo posto Vienna che ha battuto Stoccolma. Il team padovano comprende l'ex numero 18 del mondo Omar Camporese, responsabile tecnico dell'attività agonistica Under 18 del tennis club Padova che fotografa così il momento del tennis italiano. Io credo che ci sia la mancanza di qualche ex giocatore che possa dare mani, ovvero aiuti, far capire sensazioni di quando hanno giocato, trasferirle a quelli che stanno giocando adesso. Credo che il gap sia questo, senza ombra di dubbio, quindi basta copiare quello che fa la Spagna e la Francia, ex giocatori che si mettono a disposizione della federazione e aiutano i giovani, aiutano il settore giovanile a venirne fuori.